Ciao amici di Italia Topo Games, sabato 24 giugno, dopo la scorpacciata di ieri di contenuti, quattro video di cui uno, il più importante ovviamente, è quello del ritorno delle copp, e poi anche il nuovo video di UFL, se li avete persi li trovate negli ultimi video pubblicati sul canale. Oggi magari sarà una giornata più tranquilla, poi no, non si sa mai, mai dire mai. Però abbiamo qualche cosina nel menù di stamattina, due questioni legate ad iFootball e una al nuovo videogame della FIFA. In maniera indiretta però, perché sul videogame non c'è ancora nulla, però la FIFA negli ultimi giorni ha fatto una cosa molto interessante che potrebbe coinvolgere anche il videogame. Ma fatti i preamboli, andiamo un po' nel dettaglio. Ieri ragazzi non mi ricordavo se oggi ci sarebbero stati 500 o 2.000 punti football in regalo, ce ne sono 2.000. 2.000 oggi perché è la finale, non mi ricordavo se fosse oggi o meno. Comunque basta dalle 13 di oggi loggarvi nella pagina che troverete nel gioco di football e avrete, basterà cliccare sulla campagna, 2.000 punti football in regalo. Niente male, sono molto comodi. Se oggi non potete, tranquilli, solitamente le campagne durano fino al mercoledì successivo o almeno al lunedì. Adesso, domani mattina, faccio il video della domenica mattina in cui girerò il pool della settimana, lo registro oggi pomeriggio così vediamo un po' i dettagli, quindi non perdete il video anche domani mattina per avere queste informazioni, altrimenti entrate nel gioco dopo le 13 e lo vedete voi direttamente. Quindi questa era la prima cosa a dirvi, mi raccomando, 2.000 punti football non sono male e quindi approfittate dell'occasione da oggi, sabato 24 giugno alle 13, a presumo mercoledì. Ma ripeto, domani mattina vi do le indicazioni del caso, se poi ci fossero situazioni per cui solo oggi, ma la vedo dura, vi faccio uno short al volo, ma non credo proprio. Penso che domani mattina potrete vedere tutto senza problemi. Comunque, questione di poche ore e sapremo tutto e vi tengo informati. State tranquilli, se fate il vostro, cioè entrate nel gioco e cliccate nella finestra dell'eFootball Championship, però i 2.000 punti li avrete. Poi volevo tornare ragazzi solo, solo, rapidamente un attimo alle co-op. Perché? Perché ieri, ma allora cosa succederà il 29 giugno? Ci sarà il matchmaking? Ci sarà la modalità finita? È un beta test? Non è un beta test? Ragazzi, io vi ho letto quello che ha riportato Konami con questo tweet molto rapido. Breaking news, stiamo pianificando di rilanciare la modalità cooperativa, rilanciare, quindi non di lanciare, quindi uno potrebbe pensare che ripropongono il beta test, dopo la manutenzione della prossima settimana, il 29 giugno. Preparati insieme ai tuoi amici, prepara te stesso e ai tuoi amici. Questo è quanto ragazzi. Come minimo, uno quello che può pensare è che come minimo tornerà la beta che abbiamo provato nelle scorse settimane. Poi, se ripeto, aggiungeranno qualche altra modalità, qualche altra variante, diciamo, ve l'ho già proposto, il fatto dei due contro com, oppure del matchmaking, oppure degli eventi con classifica. Non so dirvelo, non so dirvelo. Può essere tutto, ragazzi. Se Konami darà informazioni prima del 29 giugno, state certi che all'istante ve le propongo qui sul canale. Altrimenti, ragazzi, aspettiamo fino a giovedì. E poi, quello che verrà, speriamo che venga il più possibile. Ma, per quanto mi riguarda, il ritorno della Coop è comunque una buona notizia in sé, perché toglierla a lungo non sarebbe stato assolutamente una buona mossa da parte di Konami. Io l'avrei tolta e l'avrei detto subito, evitando un giorno di critiche e polemiche, ma vabbè, io non sono Konami, quindi loro fanno come credono. Ed infine, ragazzi, videogame della FIFA. Non ci sono novità, però c'è una novità importante dalla FIFA, che sta veramente cambiando il suo modo di approcciarsi un po' al mondo. Perché abbiamo visto con i Esports aggressivi, no, non vi diamo più i diritti, se non ci pagate ce lo facciamo noi, il videogioco. E anche nel suo modo di rapportarsi con il calcio ha deciso di espandere le proprie ambizioni. Già, cioè, la FIFA è la FIFA, ma va oltre. Mondiale per club. Il Mondiale per club cambierà. Dal 2025 ci sarà un Mondiale per club a 32 squadre, con dei criteri, gli ultimi vincitrici della Champions League, altri, il ranking UEFA, poi le altre squadre delle altre federazioni internazionali. Comunque, il grosso delle 32 squadre verrà dall'Europa, ovviamente. Ci saranno le ultime tre vincitrici, se non sbaglio, della Champions League. Le squadre che hanno il ranking maggiore europeo, in questo momento delle italiane, se si giocasse adesso, la Juve, la Roma e l'Inter sarebbe un po' in bilico. Ma fra due anni può cambiare tutto. Insomma, un qualcosa che ricalcherà probabilmente il modello del Mondiale per le nazioni sarà fatto per club. Ma già dall'anno prossimo ci sarà una nuova competizione che vedrà la squadra della Champions League affrontare la vincitrice di tutte le altre federazioni. Insomma, cambia molto. Ma soprattutto, ecco, questo evento a 32 squadre, poi la cosa che mi sfugge un po' è comprendere come, cioè, ogni anno ci sarà un evento, ogni quattro ci sarà questa 32 squadre, però ogni anno sembra che sia il Mondiale per club. Forse cambieranno il nome e ci sarà un modo differente di chiamarli. Perché così sembra. Cioè, ogni anno c'è questa sfida tra la vincitrice della Champions League e l'altra squadra che emergerà da un torneo che si svolgerà tra la squadra vincitrice della Libertadores, la Champions League asiatica, eccetera, eccetera. Mentre ogni quattro anni ci sarà un torneo a 32 squadre, a 32 squadre, che si svolgerà ogni quattro anni, un anno prima del Mondiale per Nazioni. Insomma, la FIFA vuole essere sempre più protagonista del calcio, sia delle nazionali che per club, ed è lecito pensare che, già come il Mondiale, anche questi eventi saranno licenze esclusive del videogame della FIFA. E chissà poi se la FIFA in questo modo potrà avere anche i diritti delle 32 squadre che devono partecipare al torneo e andare oltre l'esclusività che potrebbero avere con i sports o con i football. È tutto da valutare, ragazzi. Cioè, la FIFA in questo momento è in modalità aggressive, tanto aggressive in tutti i campi. Ora, ci ha lasciato, come dire, senza nessuna notizia di questo videogame misterioso, che ancora oggi è veramente misterioso. Non ne sappiamo nulla. E più passano i giorni, e più è ipotizzabile che FIFA 24 non uscirà. Ma mai dire mai, eh? Mai dire mai. Vediamo a luglio che succede con la presentazione di Esports FC quando probabilmente finirà una clausola per cui i giochi non possono essere presentati per non rovinare FIFA 23. Vediamo a luglio che succede. Però è certo, o hanno tenuto il segreto più incredibile nella storia dei videogiochi e non è uscito mezzo spiffero, o probabilmente uscirà FIFA 25. Però questo mondiale per club, ripeto, rinforza le esclusive, gli eventi esclusive che potrà avere il videogame della FIFA e poi bisognerà vedere, appunto, con questa storia delle 32 squadre, se la FIFA in qualche modo potrà andare oltre l'esclusività o invece no, proporrà l'evento e non potrà mettere i caso. Tipo, il Real Madrid è squadra esclusiva di FIFA, scusate, di Esports, e ci sarà, ma ci sarà in versione fake. La Roma è esclusiva di eFootball, parteciperà al mondiale e la troveremo nel gioco, ma senza kit, eccetera, eccetera. Staremo a vedere il mondo dei videogiochi di calcio, tra EA Sports FC, il videogame della FIFA, UFL di football potrebbe davvero essere rivoluzionato nel giro di un paio d'anni. Stiamo a vedere, aspettiamo l'uscita di UFL, che, come dire, è ancora lì appeso a questo periodo di rilascio che va dal primo luglio al 31 dicembre. Vediamo i football 2024, che cosa farà. EA Sports FC, non vediamo l'ora di vedere se sarà un mero update di FIFA 23 o se ci saranno variazioni particolari. E poi questo videogame della FIFA, di cui, ripeto, siamo sempre più curiosi, ma di cui non emerge mezzo spiffero. Ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana. Per stamattina è tutto. Se non ci sono breaking news, ieri ci sono stati due video supplementari. Ci vediamo stasera con il campionato, con le mie partite, che vanno bene, vanno male, pareggi, vittorie, sconfitte, come capita spesso. Altrimenti, altrimenti domani mattina, con il video dei giocatori della settimana, come è promesso, quattro giri, questo pool mi interessa molto. Grazie per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione, di questo nuovo evento della FIFA e tutto il resto. Ciao!